Bene, grazie a tutti. Io vengo sempre con molto piacere a questi vostri incontri, credo che sia la terza volta, quindi sono molto onorato. Beh, molto bella anche il filo rosso, insomma, del vostro convegno, perché in effetti questa enfasi che è una delle altre facce, insomma, di questo paradosso che prima Feige rappresentava, sull'impatto sociale quasi che sia l'unico elemento, peraltro molto discutibile, su cui fare conto e su cui fare sintesi e misurare l'impresa sociale è evidentemente un paradosso, ma magari ci tornerò. Rispondo alla domanda. Sì, c'è. E c'è stato anche durante tutto l'iter parlamentare che io ho avuto l'onore di seguire nella scorsa legislatura al Senato. Beh, da un lato c'è il tentativo, c'è stato il tentativo in parte diciamo contrastato positivamente di continuare, che mi riferisco soprattutto agli enti non commerciali, ma anche a molte associazioni o fondazioni che svolgono una notevole attività commerciale, c'è stato il tentativo in parte contrastato con successo, di non prevedere tutto ciò che una buona azione imprenditoriale deve portare con sé, per esempio la trasparenza dei bilanci, per esempio una governance più controllata e partecipata, per esempio forme anche di revisione terza rispetto agli amministratori. Adesso non entro nel dettaglio, ma certamente c'è stato questo tentativo di poter continuare in una condizione un po' di nebulosità rispetto appunto a queste questioni, ma di poter continuare a svolgere attività imprenditoriale magari anche con una certa poca chiarezza rispetto a che cosa significa attività commerciale, perché come ben ha scritto Scalvini nel suo documento preparatorio a questo incontro è evidente che associazioni, fondazioni, enti non commerciali in non pochi casi svolgono pienamente attività commerciale, cioè vendono prestazioni contro corrispettive e quindi sono a tutti gli effetti delle imprese. Questo paradosso in parte si è risolto con la legge perché non si è potuto, come io avrei voluto imporre la qualifica di impresa sociale a chi svolge prevalentemente o esclusivamente attività commerciale sopra una certa soglia di fatturato, ma si è comunque previsto almeno che qualora non si voglia assumere la qualifica di impresa sociale vi siano comunque degli obblighi civilistici, fiscali, di rendicontazione che quindi in qualche modo diciamo equiparano chi acquisisce la qualifica da chi non la acquisisce, ma comunque nei fatti è un'impresa sociale. Restano questioni aperte, per esempio io penso che sul fisco avremmo dovuto fare molto meglio, ma anche qui ci sono stati anche molti freni in proposito, diciamo che questa è sicuramente una questione in parte aperta. Ma direi che la sfida dell'introduzione di Felice mi porta a dirvi ancora queste poche cose in questo primo giro di tavolo. Credo che l'impresa sociale oggi abbia una necessità di riottenere nel contesto sociale e politico un favor, una considerazione che rischia in questi ultimi anni di scemare. Ve lo dico guardando l'impresa sociale e il terzo settore appunto da un contesto a quello della politica che ha visto in questi ultimi anni attacchi notevoli nei confronti del mondo del terzo settore in particolare dell'imprenditoria sociale. Riconducibili almeno quattro, forse tre dai, tre grandi filoni di pensiero se così si può chiamare, perché forse è anche eccessivo chiamarlo il pensiero, ma comunque tant'è. C'è un filone populista che ha utilizzato il Bibiano per dire che tutte le comunità di accoglienza sono fatte da approfittatori, o pensate alla retorica di Salvini che dice che insomma le comunità e le varie forme di accoglienza sotto forma di imprea sociale tutte indistintamente erano lì per far soldi, però tutte queste gocce una dopo l'altra hanno contribuito a creare un clima. Poi aggiungeteci anche altri elementi su cui vi invito a riflettere, magari questo sarà argomento di un secondo giro di tavolo, cioè la reputazione che il mondo cooperativo in generale, non solo quello delle cooperative sociali, sta progressivamente perdendo a causa delle cooperative spurie o delle cooperative pirata. Ieri per esempio era un dibattito a Torino sul tema dei rider, beh voi sapete che anche lì sono arrivate le cooperative spurie che lavorano per conto delle grandi multinazionali che impiegano i rider, pagano questi poveri lavoratori quasi tutti stranieri regolari 3 o 4 euro all'ora e in questo modo riescono a avere il margine per poter guadagnare. Quindi da una parte c'è una retorica populista, noi sappiamo che i populisti da sempre, insomma la storia dell'Italia ce lo insegna, non amano la sussidiarietà e il terzo settore e quindi la volontà dei populisti di parlare direttamente ai cittadini da parte del leader scavalcando tutti i corpi intermedi si realizza anche con questa comunicazione molto cinica la mafia capitale eccetera che però evidentemente sta facendo perdere reputazione al terzo settore in generale e alle cooperative sociali, le imprese sociali in particolare perché sono poi quelle che sono state più direttamente oggetto di questi scandali, in particolare mafia capitale su Bibiano sappiamo che è tutto diciamo assai più incerto e speriamo che vi sia poco o nulla. Poi c'è un secondo filone che è quello di chi vuole ripubblicizzare i servizi pubblici e lo fa attraverso appunto un'azione di progressivo infangamento delle realtà del terzo settore soprattutto quelle imprenditoriali. Guardate che adesso senza fare i nomi e i cognomi dei soggetti importanti che nell'arena politica hanno questa tentazione si annida anche una forte azione di pressione da parte degli operatori pubblici che guardano con sospetto a chi opera imprenditorialmente nel terzo settore quindi c'è in realtà un braccio di ferro sotterraneo che viene poi interpretato dalla politica circa il modo attraverso cui si possono realizzare i servizi, i beni e i servizi di interesse collettivo. Guardate che il dibattito per esempio sulla legge sul terzo settore ma anche molti altri temi rappresentano plasticamente questa esigenza, questa attesa soprattutto rappresentata da parti del Movimento 5 Stelle ma non solo di ripubblicizzare servizi pubblici che sono stati in questi anni progressivamente affidati al terzo settore. Un terzo filone invece di insidia nei confronti del mondo dell'imprenditoria sociale è quello che punta alla mercatizzazione e alla finanziarizzazione dei servizi di interesse generale. Qui ci sono dei disegni anche piuttosto evidenti, vi racconto solo questo per tutti Carlo l'ha seguito in particolare, Franco, insomma il tentativo di, in discussione della legge sul terzo settore di consentire una distribuzione di utili in misura molto superiore a quella molto limitata che voi sapete il criterio della mutualità prevalente consente alle cooperative, alle cooperative sociali che con forza e determinazione siamo riusciti anche a mantenere identica per tutti i soggetti di terzo settore. Questa è stata una battaglia molto dura, vi assicuro, con sponsor potenti che arrivavano anche da oltre Italia, si chiamano poteri forti, poi si possono chiamare anche in altri modi ma mi fermo qua, ma che in realtà hanno un grande obiettivo, quello di, avevano almeno, per ora non ce l'hanno fatta, di mettere le mani sui servizi affidati dalle pubbliche amministrazioni, in particolare al mondo del terzo settore per poter finanziarle in modo particolare laddove vi sono significativi investimenti che magari i soggetti della società civile non riescono ad affrontare potendo così avere dividendi in settori che noi sappiamo essere a quasi impossibile rischio di fallimento insomma tutti i casi che avete rappresentato insomma nelle vostre tante ricerche ci dicono che appunto le imprese sociali sono capaci di resistere anche alle condizioni di crisi quindi che cosa c'è di meglio di poter investire in realtà come le imprese sociali potendo magari avere il 5, il 6, il 7% di dividendo e avendo la quasi certezza di avere degli investimenti così quasi certi, ecco, quasi da mettere in cassaforte. C'è stato questo tentativo, così come è evidente che ci sono ormai comparti dei servizi di interesse collettivo penso in particolare al mondo della psichiatria o al mondo della non autosufficienza per gli anziani dove la mercatizzazione ormai è molto spinta, la mercatizzazione intendo non solo il modo attraverso cui le amministrazioni aggiudicano cioè quello del massimo ribasso ma anche lo stile e la presenza sempre più massiccia di S.P.A. e di S.R.L. in questi comparti quindi diciamo ci sono molte sfide sul piano della ricostruzione di un clima di favor nei confronti del terzo settore dell'impresa sociale che credo un po' tutti dovremmo provare a ricostruire. Naturalmente devono esservi anche delle condizioni su cui magari tornerò in un secondo giro per fare in modo che questo favor possa crescere.